Finalmente torno a parlare di film con una recensione su cosa? Creators the Past, un film dal cast stellare, lo definiscono veramente così loro stessi, e produzione tutta italiana che si vuole affacciare in un ambito internazionale senza mezze misure. Miei dei, cosa hanno visto i miei occhi? Il genere di questo film è il fantasy sci-fi che notoriamente è poco trattato dalla nostra cinematografia. Possiamo ricordare prodotti per ragazzi storici come Fantaghiro, o ultime produzioni come Luna Nera e i Cavalieri di Castelcorvo, passando infine per film di nicchie come l'arrivo di Wang, assunto a vero e proprio emblema del trash italiano in ambito fantascientifico. Questo Creators the Past è il primo film di una trilogia ed è stato presentato allo Shanghai International Film Festival e ha vinto addirittura 28 premi a vari concorsi internazionali di livello come gli Aphrodite Film Awards, il Berlin Flash Film Festival, Cult Critic Movie Awards, il Festigious International Film Festival e molti altri. Non preoccupatevi se non li avete mai sentiti prima d'ora non li avrebbero certo citati se non fossero di primo ordine. Io sono un amante del fantasy e della fantascienza come ben sapete, se mi seguite anche su Fantascientificast, anzi già che ci sono vi ricordo di mettere mi piace, commentare e condividere il video e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Quindi, ritornando al discorso, sapere di questa produzione italiana mi ha messo voglia di vedere se finalmente siamo bravi a far fruttare un filone che negli ultimi vent'anni è diventato dominante. Quello che ho visto in Creators, The Past, è però qualcosa di estremamente difficile da esprimere, un miscudio di differenti e controverse sensazioni che mi hanno avvolto fin dal primo istante. Ma voglio andare con ordine e quindi prima di tutto parliamo delle tecnologie usate. Un film girato tutto in Italia, principalmente tra Savoia e Biella, tutto in 5K con il Dolby Atmos e in gran parte sfruttando la tecnologia del green screen che si nota fin dalla prima comparsa degli dèi che governano l'universo. Un impatto visivo che... che si nota, diciamo così. Passiamo un momento al cast stellare che si attribuiscono. Sono presenti Gerard Depardieu che non ha bisogno certo di presentazioni, Bruce Payne noto per diversi film tra gli anni 80 e 90 e per i fan del fantasy, per le due produzioni relative a Dungeons & Dragons. Infine abbiamo anche William Shatner, il mitico Capitano Kirk di Star Trek, e il sergente T.J. Huker. Sulla carta nulla da dire, anche se altri personaggi principali o secondari non vantano una grande esperienza, anzi l'esatto opposto. Fra l'altro lo stesso regista ha riservato per sé il ruolo di un personaggio biblico abbastanza fondamentale e una sceneggiatrice si è presa il ruolo, con tanto di blackface di uno dei creatori. Entro nell'area spoiler perché non posso certo continuare a girarci attorno. Devo parlare in dettaglio di alcune scene e di come queste emozioni contrastanti mi siano saltate fuori. Sottotrovate il timing per saltare eventualmente avanti. La trama ha qualcosa di valido nell'idea di voler rappresentare i vari personaggi mitologici o storici importanti della cultura terrestre, come personificazioni di alieni che ci hanno creato e che ci studiano come se fossimo cavi da laboratorio o che ci accudiscono come se fossimo dei loro animaletti. Il problema serio di tutto questo è la resa di questa trama, una cosa indegna e incomprensibile con dialoghi senza senso e inutilmente prolissi che si prendono troppo sul serio in diversi personaggi con una recitazione così scadente da sembrare grottesca. Non parlo tanto di chi ha recitato, ma proprio dei dialoghi che devono recitare. Lo stesso Depardieu, che è un signore attore, è sembrato scoglionato e fuori personaggio, con tanto di alcuni sguardi come per dire quando è che fanno fuori il mio personaggio religioso e lo sostituiscono con l'alieno. Sicuramente un problema dovuto in larga parte anche al poco tempo che avevano a disposizione per fare il suo girato, un classico alla Boris con ferretti che grida buona già dopo il primo Chuck. Sempre rimanendo su Boris voglio fare un paragone con la fotografia, oltre che con la regia. A tratti è degna degli occhi del cuore, in cui un duccio patanè ricorda che non devono fare meglio della pubblicità. Qui però la pubblicità non c'è e ho pure pagato il biglietto! Shatner recita tutto il tempo con un occhio coperto da un meccanismo cyberpunk che sembra mettere a fuoco di continuo qualcosa, ma senza che lui muova lo sguardo, una cosa di un irritante che fa paura, assieme alla sua recitazione poi degna di un livello di T.J. Hooker, una serie di più di 30 anni fa dove certo non si pretendevano gli standard odierni. Vogliamo poi parlare dell'inutile scena di sesso, buttata lì, tra i due protagonisti che non ha senso ed è inguardabile, soprattutto se la giri in una doccia piastrellata di marrone nero con una grandezza lilipuziana. E la scena inutile al carnevale di Vrea dove un dio per nascondere il suo globo genetico lo camuffa ad arancia che immediatamente viene raccolta e lanciata sul naso del nostro protagonista, che poi la raccoglie e capisce subito di essere qualcosa di alieno. Eccoci poi alla parte che Zaia, il regista, tiene per sé, la rivisitazione aliena di Gesù. Io sinceramente mi aspettavo selve imbufalite di cattolici alla prima per questa blasfemia, magari la pandemia ha aiutato ad evitarla. Una parte comunque che andrà a scontrarsi con il personaggio di Nathan per la salvezza del mondo. Nella mente degli sceneggiatori una personificazione di un Vin Diesel o The Rock in cui alberga però la mente di un bambino videogiocatore incallito a cui viene dato quel corpo da macio appunto per salvare il mondo. Una cosa che risulta così caricaturale da sembrare inferiore pure alla bidimensionalità della pellicola. Infine il connubio trattore e personaggio peggio riuscito di tutti è vinto da Airee, interpretata da Lafani. Sia chiaro che non ne faccio una colpa Lafani che ha sia interpretato il personaggio che partecipato alla sceneggiatura, ma per l'amor di Dio. Se vuoi fare un film internazionale e metterci un personaggio principale di colore, non puoi prendere un'attrice bianca e renderla di colore. Appena metti il piede negli USA ti distruggono totalmente. Non voglio poi entrare nel merito della loggia massonica che uccide Depardieu o di quella sottospecie di Man in Black venuti così stereotipati e inverosimili da non farmi nemmeno ridere come nei film dell'Asylum. Per concludere, la storia è un'accozzaglia di spezzoni presi e richiamati quasi casualmente che non permettono di seguire o capire molto bene allo spettatore l'evolversi della situazione. Tra dei che lottano per prendere il controllo dell'abita terrestre e in cui spostare le loro morenti civiltà terrestri che lottano per prendere il potere o salvare il mondo senza sapere da e con l'aiuto di altri dei, il tutto risulta così posticcio da sembrare fin troppo finto. La battaglia tra dei e semi divinità sono ahimè sullo stesso piano di bidimensionalità. Insomma, un film che non conclude e che narra solo un terzo della saga, ha incassato nelle prime due settimane solo 120.000 euro, probabilmente il cachet di Depardieu. Ok, la pandemia e lo spostamento da marzo a ottobre 2020 ha certamente influito, fra l'altro ho capito che era già iniziata la lavorazione del secondo capitolo, The Present, ma personalmente non vorrei vedere null'altro di questa saga, anzi mi domando quanto budget abbia avuto e da chi. Non ho trovato nulla a riguardo perché sarei veramente interessato a cercare finanziamenti alle mie trame di fantascienza italiana e questi mi sono sembrati parecchio accomodanti. Se pensate che sia stato eccessivamente cattivo vi prego di guardare Creators The Past e poi dirmi la vostra, perché magari sono io ad essere troppo esigente, ma visto che si attende l'uscita di Diabolic dei Manetti Bros con Marinelli e la Leone, il cui trailer è incredibilmente ben fatto, penso che anche in Italia si possano realizzare produzioni di ottima fattura degne della ribalta internazionale. Con questo ho concluso, vi ricordo le solite cose, condividere il like, commentare, iscrivervi il mio sito web e i miei social, oltre che sostenere le mie attività, link in descrizione. Nel caso mi ascoltaste da Fantascientificast, grazie anche a voi. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!